1969 Fred Hampton leader delle Pantere Nere ucciso dalla polizia di Chicago 1991 terminano i voli della Pan Am 1991 gli Hezbollah libanesi liberano l'americano Terry Anderson commenta il fatto del giorno roberto papetti direttore del gazzettino oggi parliamo di una delle più importanti filosofi e politologhe del secolo scorso Anna Arendt